Si infittisce il giallo della sparatoria di Fara, Vicentino, costata la vita un 28enne marocchino. Sale infatti a tre il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il conflitto a fuoco avvenuto in via Crosara nella mattinata di lunedì. Oltre al vicebrigadiere del radiomobile di Tiene, già indagato per omicidio, commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, è finito nel fascicolo della procura di Vicenza anche Alex Frusti, l'agente della polizia locale del distretto nord-est Vicentino, colpito da Sufiana e Bubagura prima che questi venisse ucciso dai colpi di pistola sparati nel violento scontro a fuoco. L'ipotesi di reato per Frusti è la medesima, anche se molti dubbi sulla dinamica degli eventi verranno sciolti solamente dall'autopsia sui resti del marocchino che si svolgerà oggi. Indispensabile infatti capire da quanti colpi sia stato raggiunto l'uomo, motivo per cui è stata disposta dal pubblico ministero pure una perizia balistica. L'esame necroscopico è fondamentale per chiarire se il 28enne fosse sotto l'effetto di sostanze nei concitati momenti della sparatoria. Nel frattempo proseguono le indagini anche a carico di Bubagura con sopralluoghi nella sua abitazione e approfondimenti sulle sue frequentazioni. La quanta emerge dal contesto pari infatti che la vittima della sparatoria abbia proferito parole che farebbero pensare a una sua radicalizzazione, anche se la famiglia avrebbe smentito più volte questo dettaglio. Migliorano intanto le condizioni di frusti ricoverato all'ospedale di Sant'Orso con una ferita molto pericolosa al petto. Secondo alcune fonti il proiettile sparato dalla pistola che il marocchino ha sottratto a uno dei due carabinieri avrebbe spiorato il cuore.